Movida, locali notturni e spiagge sono i luoghi in cui gli assembramenti sono scontati e che preoccupano il prefetto. Due giorni fa si è riunito proprio in prefettura il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Cosima Distani, a cui sono intervenuti i sindaci dei comuni di Caltanissetta e di Gela, i responsabili provinciali delle forze di polizia, il comandante della locale sezione di polizia stradale, allargato alla partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria ConfCommercio e ConfEsercenti della provincia di Caltanissetta, per mettere a punto la strategia da adottare durante la stagione estiva nell'attuale fase di ripresa delle attività produttive e della vita sociale, anche alla luce delle ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Nel corso dell'incontro è stata affrontata in modo particolare la tematica del rispetto del divieto di assembramento e dell'osservanza delle misure di stanziamento sociale, soprattutto presso gli esercizi pubblici e altri luoghi di ritrovo dei giovani, nonché in altri spazi di aggregazione di persone. La stagione estiva e il ritorno all'ordinario svolgimento delle attività sociali e commerciali, ha sottolineato il prefetto Distani, richiedono nell'attuale emergenza di carattere sanitaria l'imprescindibile necessità di proseguire scrupolosamente nell'adozione di comportamenti appropriati e responsabili. Dopo aver ribadito l'attualità del divieto di assembramento che in alcuni territori è stato disatteso, il prefetto ha evidenziato che risulta assolutamente necessario ricercare tutte le misure possibili per bilanciare l'emergenza di carattere sanitario con la tendenza alla socialità, tenendo ben presente che occorre dare assoluta prevalenza alla tutela della salute di tutti i cittadini, non sottovalutando l'importanza della ripresa delle attività economiche in generale. Il prefetto Distani, alla luce dei recenti episodi di affollamento e di disturbo della quiete pubblica che si sono già verificati nel capoluogo e a Gela, ha chiesto di intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nelle ore serali e notturni e nei fini di settimana, per garantire il distanziamento tra le persone. I sindaci dei comuni di Caltanissette e Gela hanno assicurato controlli nei rispettivi comuni sul rispetto degli orari di chiusura degli esercizi pubblici. Alle iniziative e agli interventi pianificati dalle forze di polizia territoriali forniranno il contributo coordinato operativamente dalla Questura i militari dell'esercito italiano dell'operazione Strade Sicure, la polizia stradale e le polizie municipali dei comuni interessati.